Ciao belli di mamma Campagna Vediamo E' normale Inizia una nuova campagna Però non c'è normale Impegnativo Oh mio dio Oh mio dio ma che Ok Che in senso impegnativo Difficile Ok La vedo brutto Ma di cattiveria anche Tanto c'è Cos'è un pianeta Con fiumi blu Stile avatar Che cazzo è Ok Yeah Che sarebbe anno BC Bobo Cristo No dopo Bobo Cristo Asteroid Deimos 875 Beh Metograficamente non è male Almeno dal video Spero che nel video Non si sentirà la ventola Del pc Perché Lo sto usando Per mettere Sto usando tanto Sony Vegas Per mettere a posto Tanti video Quindi Spero che non si sentirà Non so come Cazzo Perché mi è sempre a fare Che dopo nel video è anche fastidioso Scusatemi Mi scuso già Anche se mi scuso sempre Ma dettagli Dettagli Non so se è un gioco strategico Oppure Spara tutto In teoria è spara tutto Perché c'è scritto Linea difficoltà Adi Cos'è Avanti dio Boh Vabbè Avanti dino Dino power Ok Quei bostoli ci hanno attaccato E ci hanno fotto il culo Ivorus Bel nome di merda Proprio Ditto di cattiveria Nessuno l'avrà Sembra Ma tanto Marcus Fenis I soliti Personaggi Quelli in Ergumeni Vediamo un po' com'è Gameplay Ok Ok Fì qua Ci arrivo anch'io Ok Solita roba Ok Errata Ok Ok Sì Aspetta Ok E come code Va bene Sì La solita roba I tasti Dei sparatutto Solo Wow No Non l'avrei mai detto E gli altri Sono per le ganate Ah no Per il corso alternativo Allora comunque Un po' Dead space Ok Sì Vabbè Solita roba Aspetta Dove Oh Che cazzo è quello Scatta Per il miele Oh Che cazzo ho fatto Tipo Wiii Ah ok Scivolo Ok ok Magnifico Ci mancava solo Mi sta prendendo anche per il culo Aspetta che alzo Perché io non sento una beata minchia Fanculo Se si sentirà l'eco Per usare Beh non sembra male Ci aveva le mani tipo quasi Sembra tipo uno sparatutto Che ha preso tante cose Da tanti altri Sparatuti Molto più famosi Si spara tutti Spara tutto Spara Spara succo Spara pippe Apri Toglia No Punteggio Ok Aspetta cosa c'è Ah adesso ti apri brutta Oh Che cazzo Ok ok Niente Carica Ok Sì i soliti tasti insomma Solo che qua il fuoco secondario Allora più alla resistance Diciamo Sentite la Ok la mia Proezza Allora Questo Perché c'è Tutto quel nome In arabo Saud Ok mi sta facendo Mi sta già facendo il culo E' solo uno Porca pu Ma Era solo uno What Ok Fanculo Lasciamo stare Non è successo niente Perché dovevo Capire un po' Come cazzo funziona E come faccio a ripararmi Mi è stato un ferido del comando Oh E' morto No non è ancora morto Oh che adesso è morto Sì ma Non mi piace tanto la visuale Tutto Ah Oh Fucile Non mi piace tanto come si muove così Non so neanche io come dirlo Dovreste provarlo perché Io mi trovo un po' scomodo Ok Aspettate Oh mi ok Ok sarà uno sparatutto che conta di più su Sui punteggi là come quelli vecchi Diciamo Diciamo così Oh Guarda che troia Che cozzo è successo Non era Qual era Ah C'è lancia puffi Ah Incorporato Interessante Aspetta Oh Eh ti piace Ho fatto il bel leave and fly Va bene Ecco Oh Scusa è invisibile anche To Troia Uccisione più Sì Mi piace Però Trovo scomodo Gli sto cose Troppo scomodo Ma What the fuck Quest'arma Da dove cazzo è uscita Quante armi ho Ne ho tre Ah Sì bello prima Io pensavo di averle due Invece noto eh Quindi vi attaccate un bel po' Eh va Con colpo Assassino Guerrero Come cazzo ho fatto a morire per un colpo Ah vabbè Sarebbe a giocarlo online per il punteggio Ok Tipo Non so Ben qui Con le robe lì Dove sono? Ok In che c'è poi Allora non è bastardo Che c'è poi In che Oh Guardalo Che figlio di puttana Troia Ok È un gioco Difficile Difficile Cioè Non è tanto difficile Basta un attimo Prenderci la mano Però è bastardo Diciamo così Dov'è quell'alto? Tanto mi viene la stannutire Ok Sono ritornato dal stannuto Scusatemi Di sicuro avrò tagliato la scena Ma guardo Guardo Cos'è sto coso? Mamma mia Nessuno che mi spiega un cazzo Una beata Oh mio dio Andiamo un po' all'aspetto Che cazzo Che cazzo è? Un misciotto fra Elgast Assassin's Creed E E Boh Vabbè lasciamo stare Andiamo 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 Go 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 Non è successo niente Vedete cambiamo arma Che non la pistolina Ok Ah i collezionabili Ok Le solite robe Ok Non ce ne sono Oh Fidi puttana No Questo non ha il fuoco secondario Ovviamente Mi cambio l'arma figa L'unica Che non ha il fuoco secondario Eccellente Eccellente E in un maria cazzo Si mi piace Quante munizioni Va di qui No Ok Mamma mia Ne avevo prima 40 Adesso sono uscite dal culo Mi non ho ancora capito un cazzo La storia Ma non credo che la storia Sia tanto importante E' solo un pretesto per sparare Brum 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 Cioè guarda I nostri sembrano tipo Quelli di Ghias Invece gli nemici Sono un misciotto Fra gli Elgast Ok Eccellente Eccellente Che cozzo Non lo sto criticando Perché il personaggio Sembra quello di Ghias Oppure i nemici Un po' gli Elgast Però Un po' di Insomma Qualcosa in più Potevano fare In design Sentite proprio Che colto che sono Eh Vaffanculo Se qua davanti Ah Si Sembrano proprio Almeno mi sembrano A me Dopo Ganate Non ce l'ho Ok Perfetto In questo gioco Non ho le ganate Ho solo il fuoco secondario Di merda Ma va bene Ok E per te No Oh Perché non sparo più Ok forse ho finito Guai doppi Che cazzo Per dire Uh Portata Toglia 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 Non mi avrai mai E invece Eh vabbè Dettagli Island Rage Non so il prezzo Di questo gioco Dovrebbe comunque Essere Eh vabbè In figa il mondo Mi avete fatto iniziare Di 12 euro Insomma Come tutti i giochi Delle PSN Serie No Non credo ragazzi Voglio solo Farvelo un po' conoscere Perché è anche la prima volta Che ci gioco io Quindi Non so cosa dirvi Ma io preferisco Sta qua A sto punto Non so cosa dirvi Non mi sembra male Comunque come gioco Si Munizioni Grazie Dai fai Lo scanner Si si Nanani Nanani Si Nanani Bravi Bravi Numeri Così Strani Dai su Dai che ce la facciamo Entro oggi Dai Dai Toglia Dai Dai Ok Bravi Qua c'era gente Se non mi sbaglio Esatto Che anche questi Siano Anche l'occusteto Mettiamoci in mezzo Anche le l'occuste Allora sono metà Elgast Assassin's Creed E l'occuste Proprio un bel Mischione di roba Oh mio dio E questo da dove cazzo è uscito Fanno anche il teletrasporto Ok questa roba Non mi piace Che c'è poi Questa roba Non mi piace Perché in futuro Potrebbero mettere Tipo Tu hai ucciso 20 nemici E dopo te ne esce Altri 20 Così dal culo Fanculo Non mi piace Non mi piace Questa storia Carica Perché non carica Sta roba Ah È tipo È tipo Un mitaglione Diciamo così Di ma Ah no C4 Ok Sì Sì Oh mio dio Pensavo Una mega esplosione E invece Guardi No Fio di puttana Perché sotto C'è quel No Oh mio Pensavo Che era un nemico È un nemico Infatti Kabum Sì Cazzo Ok Si è surriscaldata Perfetto Toglia 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 Come guai dopi Che cazzo sto facendo Ok Non è male comunque Ragazzi Da provare Forse Spero di avervi Farvi Sera Deve Che cazzo sto a dire Di farvi conoscere Un gioco Più che decente Che forse a qualcuno Potrebbe piacere Anche se Quando caricherò Questo video Lo guarderanno In 5 persone Forse in futuro Lo guarderà Più persone Tipo fa qualche anno Però Aia In quel lasso di tempo Sarà uscita la play 4 E E questo gioco Si attaccherà Un bel po' Anche se Non credo Che tutti Spendano così Tanti soldi Così all'inizio Da quando era uscita La play 3 Quanto costava La play 3 Tipo 500 euro Una roba bestiale C'è proprio Fuori Da ogni schema Adesso Il prezzo È già più contenuto Però Ci sono troppi giochi Per la play 3 Che dovevo ancora giocare E che vi voglio Far conoscere Scusatemi L'italianco del giuto Ma Dai apri Scusate Che cazzo Stavo dire Ho perso il figlio Del discorso Ok Mi ero concentrato Sul mio naso chiuso E va bene Va bene Chi siano Chi siano Dai apri Sì gesù Sì 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 Compari Ah ok Mamma mia Di cattiveria Sì Vai Vai tizio Alla crisis Sì Eh vabbè Ma questo è come quello di Del chi Ma non ero soldato Oh Troia Questo è come Quello di Chi Vero Troia Sei uguale Wii Allo ok Eh vabbè Ma cos'è Diventano metà invisibili Metà No Non capisco più Oh Ti ho visto Ti ho visto Troia 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 Uno lo vi Muori Quanta cazzo di vita aveva Eh vabbè Ovvio che Schiatto così Dal culo E tu Il mio Blablabla 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 Ancora qui Soldato Con La cosa Araba Va bene Ho capito che Sei Metà arabo Non sono Razzista Ma Vaffanculo Qua ok Basta vedere Che ci sono Anche gli agg Che fanno Il cedere Stasporto Oh mio dio Combo E vabbè Ma loro diventano Invisibili Che cazzo È Ok Tutti i soldati Di sto mondo Diventano invisibili Ok Supernova Così Dal culo Uccisione Ok Si vede Che ho fatto Esplodere qualcosa Senza volerlo C'è qualcuno Ok Ho finito Santissimo No 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 Cozzo Toglia Toglia Tomare Figa Tomare Puttana È Boh È ballena E vabbè Ancora qui Si Facciamolo Facciamo Quattro volte Se muoio Quattro volte Blocco il video Basta Finisce Finisce Vaffanculo Anche la demo Tanto non credo Che ci sarà Qualcosa Spettacolare Alla fine E invece Succede di tutto Più alla fine Ok Questo lo hai Affanculo Ok Non ha più La testolina Ma dettagli Tieni premuto Oh mio dio Cos'ho Cos'ho preso Cos'è un lanciarazzi Cos'è Cos'è sto coso Fa danni Mi No Ah Era un lancio Grate Però non faceva Danni Cazzo Cioè Ma culo Detto dal cuore Si ok Predator La lì La lì Si bravo Bravo Ok Qua posso No ok Devo farlo Tutto a piedi Ok Ok Andiamo con calma Senza cazzeggiare Perché se no Moriremo di cattivo Quello là Il nemico Ah no È morto Ok Dai 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 Aia Toia Comunque Mi sta piacendo Abbastanza Sto gioco Perché almeno È abbastanza Tosto Anche a livello Non c'è neanche a livello Normale Proprio Su dei figli Di puttana Oh No Tu mi hai ucciso Toia No Ok Non mi uccidi Di nuovo Brutta puttana Eh Vardo Lo sto qua Come Come slitta Che è un piacere No 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 Ok Ok È finito No Di giù Tu da dove sei uscito Oh Un altro No 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 Questa Questa è vendetta Questa è vendetta Vera Questo è l'ultimo Tentativo ragazzi Dai muoviti Caricamento Di merda Sarà La quinta Sì quinta ormai Dai Facciamolo bene Facciamolo bene Concentrati So che Di essere una mezza sega Ma va bene Andiamo 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 Questa qua Facciamo Ok Non fa un cazzo La pistolina Anzi È peggio di quell'altra Ok Ok Dai Che cazzo Come ha fatto Beccarmi Da dove cazzo Sei uscito Vabbè Ovvio Ovvio Sono morti Tutte e due Non riesco a capire No Ok Vabbè Adesso vengono Tutti qua Non posso stare Nascosto Un po' indietro Che mi venite Così addosso Ok No cos'è questo Le lanciaganate Che cazzo ho preso Boh Vabbè Ho preso qualcosa Che non dovevo Posso Lanciare Sti cosi No Ok Ah Ah la vedo brutta La vedo bruttissima La vedo brutta Non ci capisco una sega Tu non eri morto Vaffanculo Sentite non ci capisco una sega Quindi spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like e condividete E date una possibilità Anche a questo gioco Io solo perchè ho provato la demo Ma la serie non la farò No perchè è difficile il gioco Perchè insomma non credo che sia Chissà che cosa come storie E poi vi voglio far conoscere altri giochi Più dignitosi diciamo Tra virgolette Quindi spero che vi sia piaciuto e alla prossima Ciao belli